Fiera Agricola per noi rappresenta un appuntamento al quale non possiamo assolutamente mancare, è un appuntamento all'inizio della stagione dove i nostri clienti hanno la possibilità di programmare, capire cosa comprare, vedere le ultime novità e quindi sostanzialmente poi è un momento di incontro assolutamente importante per trovarci, vedere i nostri clienti, parlare con loro, capire le loro esigenze. Oggi si sta parlando sempre di più di tecnologia, di guide automatiche, di macchine servite dalla tecnologia satellitare e noi su questo aspetto siamo all'avanguardia, abbiamo uno staff di persone dedicate all'interno dell'azienda che si occupano ormai quasi esclusivamente di questo, oltre alla parte tecnica classica che abbiamo sempre seguito. In particolar modo questa novità, questo trattore di 300 cavalli, il nuovo New Holland T7 300, è una macchina ad alta densità di potenza, quindi 300 cavalli in una dimensione compatta, in una dimensione abbastanza compatta anche in termini di peso per rispettare il terreno e per avere la possibilità di far funzionare attrezzature molto importanti.